Tutti quelli che ci hanno provato. Tutti quelli che sono saliti sul palco. Tutte le canzoni. Tutte le performance. Tutti gli applausi. Tutti quelli che ce l'hanno fatta. Tutti i commenti dei giudici. Tutte le emozioni. Riviviamolo insieme. Aspettando che si accendano di nuovo le luci di X Factor. X Factor le audizioni dei best of. Venerdì alle 21.15 su TV8.